Non ce ne avevo pensato di dare Si allontana sempre di più, adesso va fuori Oh, venite qua, signore, forse, vieni qua, che lo giriamo di qua Ehi, fatti, va, eh Oh, si, all'inizio, va bene E' molto dura la partita 13 minuti per tempo 13? Finita, finita Finita Il tuo e il mio sono fuori, giusto? Sono ingrugniti, sì Sono un po' neri Ma vai, secondo me poi No, neri Ma Si, fa bene la panchina Fa bene, fortifica Ma qualcuno deve andare in panchina No, ma io non intendo Per il momento, se il possesso parla, se il possesso è quello di noi Un minuto Mettiamola così Se finisci adesso vinciamo i punti Attento Attento bravo Matteo bravo 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 c'è lì tutti lì tutti lì sono allargati ma anche loro sono tutti lì ha circondato da 27 persone bravo bravo siamo a 2 da 13 2 da 13 ah sei tornato ah la fosse lì 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 Grazie a tutti. 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 Vai Vasco. Vai. Vai. Via. Via. Grazie a tutti. Buono. Vicky. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti.